Basta! Ascolta! Te lo dico in faccia. Io anche te lo dico in faccia. E allora girati! Via, via! OOOH! No, 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 no! La una è l'altra e l'altra no. Hai capito? Una è la, la c'è l'altra, l'altra è l'altra. Che voi lo facciamo? Toglio il cappello... Toglio il cappello, Toglio il tavolo... Vaglio a vedere come te la camerai... Se prendo questa e vedo questa... La picocca non cambia niente. No? e allora prendo pesna al di coca è la stessa cosa allora allora vedi poi sei aspeggito però al piano al piano al piano andiamo al di coca cosa semplice non hai voluto ti passerò alla quarta della mediana non sono capace al di coca non sono capace al di coca allora non chiamarvi più al di bocca E come devo chiamarti? Ma chi è albichetta? Che cosa dai? No, 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 albichetta No, no, albichetta Ok, ok, adesso metti via Ok, metti via Sì, ok, adesso vuoi metti Allora, tipo vado Luco, e ti appunto Chi sei? Schettino Ma chi stessi? Ok, allora, ok Albasta La lenta Dai Faccio io le cose semplicissime Così non cadono Il numero internazionale Il numero francese dei francesi Non abbiamo numeri francesi Qual è il numero francese? Devi prendere questo Ma ma dai Ma non è francese Ma perché poi francese Perché è il numero della tua letta E cioè Ma dai 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 Ma metti via quelle robe Sì Ma non si usano così Si usa così Ma dai Sei pronto? Graffinare E tre E due E uno E su Ho 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 Ho